E veniamo alla partita nella quale si vedono veramente delle belle azioni. Fa vedere il Bayern che gioca in maglia rossa e va a vincere sul terreno dell'Arus in Danimarca per 2-1. Fa spicco soprattutto la prestazione di Rummenigge che realizza entrambi i gol della vittoria della formazione dei Monaco, del Bayern. Ecco l'assist di Dürnberger di testa, entra molto bene Rummenigge e realizza. Ancora attacchi in successione della squadra tedesca con Rummenigge, questa volta affermato sia pure bruscamente sul limite dell'area di rigore. Il punteggio comunque del primo tempo non cambierà, resterà di 1-0. Ecco Dürnberger ora che si produce uno scatto suo, il traversone e vedete che affannosamente per precedere gli avversari, nel caso specifico si trattava ancora di Rummenigge. Ed ecco ancora fasi favorevoli al Bayern, l'azione che prelude alla realizzazione del secondo gol, la imposta da lontano Breitner. Breitner che si fa largo tra gli avversari, appoggia sulla destra Kraus. Attenzione adesso allo scambio molto bello tra Kraus e Breitner che è messo in condizione di crossare, entra molto bene preciso Rummenigge, il gol del 2-0 al secondo minuto del secondo tempo. Col Bayern in vantaggio anche qui la qualità delle immagini non è delle migliori, vedete la riga che appare lungo il teleschermo, è proprio originata dalla televisione danese. Ed ecco l'azione che porta al gol, eccolo il gol del 2-1 realizzato da Sander su un errore fuori.